Tanti sono i messaggi che la Pasqua ci trasmette. Gioia intensa, speranza e pace. La Pasqua ebraica e la Pasqua cristiana. Storia, usi e tradizioni. I simboli della Pasqua. Storia della colomba dolce. La pace di corsa, occasione di incontro e di solidarietà. 1500 piantine sono state piantumate in 5 zone della città e, tra qualche anno, renderanno più verde la nostra città, la Spezia. Vi presentiamo l'uovo di cioccolato, che nel 2016 ha vinto il Guinness dei primati. Lucia ha fatto una ricerca su un dolcetto pasquale, caratteristico della Calabria. Lo ha preparato assieme alla mamma Luciana. Vivi città, un evento sportivo all'insegna dello sport e della solidarietà. Carissimi telespettatori, benvenuti al nostro Tg dei ragazzi. Prima di tutto vi auguriamo buona Pasqua di gioia e di speranza. La Pasqua è la festa più importante dell'anno. Quando Gesù muore crucifisso, tutto diventa triste, doloroso e i suoi discepoli, Maria, sua madre, provano un senso di sconforto. Ma la risurrezione del Cristo non li fa più sentire soli. Così avviene per ogni anno e una gioia immensa rinnova in noi la speranza e riempie il nostro cuore dell'amore di Cristo. La Pasqua è per noi una buona occasione per riflettere sulla pace, la solidarietà e sull'amore del Cristo, che ha per tutti gli uomini e ci invita a rinnovare il nostro modo di vivere e renderlo migliore. Pasqua nasce dall'ebraico Pesach, che vuol dire passaggio. Per gli ebrei è il passaggio dalla schiavitù alla liberazione. Essi, guidati da Mosè, lasciarono l'Egitto per raggiungere la terra promessa. La notte della partenza cenarono con un menù particolare, agnello arrostito, gli erbi amari che lo ricordavano, che ricordavano la sofferenza della schiavitù, il paneazimo, perché era il più veloce da preparare. E ancora oggi gli ebrei mantengono questa tradizione. La festa viene festeggiata in occasione del primo plenilugno dopo l'equinozio di primavera. Per i cristiani la Pasqua ricorda la resurrezione di Gesù, che porta la pace e riempie di speranza la vita di ogni uomo. Ma la Pasqua cristiana oggi è vissuta soprattutto all'insegna della tradizione. Uova, agnelli, pulcini e campani di cioccolata, colombi e canestrelli e chi più ne metta hanno rallegrato le nostre case in attesa di questo giorno. Grandi e piccini hanno il desiderio di vedere, toccare e mangiare tutti questi dolciumi, molti dei quali sono simboli della Pasqua. Ve ne parlerà Tommaso. Via al filmato. L'uovo rappresenta la resurrezione di Cristo, il passaggio dall'inverno alla primavera. È il simbolo di una vita nuova perché da esso nascerà il pulcino. Il guscio rappresenta il sepolcro che si spezza per far uscire Gesù un risorto. La colomba, assieme al ramo d'ulivo, sono per eccellenza i simboli della pace, perché ricorda un episodio della Bibbia. Noè lasciò andare via dall'arca una colomba che ritornò indietro con un ramoscello d'ulivo, ben stretto nel becco. Noè capì così che il diluvio era finito e che Dio aveva riportato la pace sulla terra. Perché oggi suoniamo le campane a festa? Perché Gesù Cristo è risorto, portando nel cuore di tutti un messaggio di amore, di speranza in una vita nuova, ricca di pace. Proprio in questo periodo gli uomini ne hanno molto bisogno. Sono in corso tante guerre, attentati crudeli che stanno portando morte e distruzioni in vari paesi del mondo. Tantissime sono le persone, soprattutto bambini, che ogni giorno a causa di bombardamenti muoiono, senza contare quelli che soffrono, perché non hanno cibo sufficiente, sono ammalati, ma non possono ricevere cure adatte o perché mancano medicine e medici. La Pasqua dei Cristiani è una festa mobile, perché non viene celebrata ad una data fissa, ma cambia ogni anno. Nel primo periodo del cristianesimo la risurrezione era ricordata ogni domenica. Successivamente la Chiesa Cristiana decise di celebrarla soltanto una volta all'anno, ma non si trovò all'accordo sulla data. Anni dopo fu deciso che la Pasqua doveva accadere sempre la domenica, dopo la prima luna piena di primavera. Oggi la data si calcola sulla base dell'equinozio di primavera e della luna piena, utilizzando per calcolarla il meridiano di Gerusalemme, luogo della morte e della risurrezione di Gesù. L'usanza di donarsi uova di cioccolato è attestata tra Germania e Francia, ai primi dell'Ottocento, quando però le uova erano di cioccolato pieno. Già del 5.000 anni fa ci si scambiavano uova in primavera, però erano di gallina. Poi Fabergé cominciò a decorarle anche con gemme e oro. Nei libri contabili di Edoardo I d'Inghilterra del XIV secolo risulta segnalato una spesa per 450 uova rivestite a foglie d'oro da donare proprio come regalo di Pasqua. Fu per Ter Carfabergé, orafo, che nel 1887 creò le sue celebri uova con smalti, platino, pietre preziosi, incastonate un gioiello all'interno. Riguardo la nascita delle uova di cioccolato c'è chi dice che fu Luigi XIV il primo a farle realizzare, ai primi del Settecento. Di sicuro l'usanza è nata per volere l'ato, vuote per mettervi la sorpresa. Le uova colorate sono uno dei simboli più belli e allegri della Pasqua. Richiamano la tradizione, la primavera e grazie ai loro colori sanno dare un primaverile alle nostre tavole. La scelta di utilizzare ingredienti che troviamo normalmente nelle nostre cucine invece di scegliere coloranti artificiali è senz'altro una buona idea, utile anche a coloro che soffrono di allergie o sensibilità ad alcune sostanze, cosa ormai sempre più diffusa. Le uova pasquali, colorate con i metodi naturali, avranno colori tendenti al pastello e meno sgargianti rispetto a quelle realizzate con i coloranti. Anche il tempo necessario sarà maggiore e cambierà soprattutto in base alla sostanza colorante utilizzata. Ma il risultato sarà davvero fantastico. Ingredienti Preparazione Per prima cosa far lessare le uova. Decidete se sbucciarle o lasciarle nel guscio. In questo caso la colorazione interna sarà meno intensa, ma ad esempio con le uova di quaglia si ottiene un guscio con un effetto davvero particolare. A questo punto preparate le varie basi coloranti, tenendo presenti queste indicazioni per permettervi di capire quale ingrediente dovrete usare per ottenere il colore desiderato. Arancione Buccia di cipolla dorata o peperoncino Giallo Ciorcuma Verde Spinaci Azzurro Mirtilli, vino rosso o cavolo rosso Blu Gli stessi ingredienti di sopra, ma lasciando in infusione per una nota intera. Rosso Barbabietra, buccia di cipolla rossa In questo caso il tempo di infusione dovrà essere molto breve, altrimenti otterrete marrone. Rosa Barbabietra, tempo di infusione breve. Viola Infusione prima del colorante rosso, poi in quello azzurro, senza esagerare con il tempo di infusione. Scegliete i vostri ingredienti e tritateli molto finemente. Sono utili anche gli scarti di centrifugati, metteteli a bollire in poca acqua per circa 30 minuti, quindi filtrate tutto e aggiungete l'aceto bianco, circa un cucchiaio ogni 100 millilitri d'acqua. Questo aiuterà a fissare i pigmenti. A questo punto immergete le uova nelle basi colorate, prendendo attenzione al tempo di immersione. Per colori intensi si può arrivare anche una notte intera, ma per alcuni possono bastare pochi minuti. Come nel caso del rosso o dell'arancione, dato nella buccia di cipolla. Colorate le uova pasquali, con questo metodo è semplice e divertente. Ed il risultato è assicurato. Buon lavoro! Ora vi presentiamo la ricetta per fare l'uovo di cioccolato in casa. Nel citunto occorrono due pezzi stampi per uova di Pasqua. Si trovano facilmente. Noi vi consigliamo di scegliere quelli in plastica trasparente, mettere un paio di guanti lattici, in modo da non lasciare impronte sul cioccolato, e di un termometro per dolci, per controllare che la temperatura del cioccolato non scenda troppo. Non dimenticare i pentolini per il bagnomaria, i mestoli, le tasche da dolci per le decorazioni. Ovviamente il cioccolato ve ne servirà circa 500 grammi. Ecco il procedimento passo dopo passo per realizzare l'uovo di Pasqua fatto in casa. Scegliete il cioccolato a bagnomaria portandolo alla temperatura di 45 gradi. Una volta fuso, versatelo negli stampi, assicurandovi che siano perfettamente asciutti e puliti. Qualsiasi traccia di umidità o uto rovinerebbe il vostro lavoro, togliendo lucentezza al cioccolato. Una volta avessato il cioccolato, in maniera uniforme in entrambi gli stampi, fateli ruotare, in modo tale che il cioccolato aderisca bene su tutta la superficie, e poi lasciateli raffreddare. Dopo circa 30 minuti, le uova dovrebbero staccarsi da sole. In caso contrario, fate una leggera pressione sugli stampi. A questo punto inserite la sua presa, e subito dopo richiedete l'uovo. Per la chiusura, potete scegliere se utilizzare un po' di cioccolato fuso da passare lungo i bordi, o semplicemente riscaldare i bordi delle due metà, in modo da farli aderire. Non vi resta che decolarlo. Potete scegliere se riempirlo di fiori o di zucchero, o scriverci sopra un augurio utilizzando il cioccolato bianco. Nel menù pasquale di oggi non manca l'agnello, e anche il dolce tradizionale a forma di agnello o di colomba. Ma quando nasce la colomba, dolce? Ve ne parleremo. La settimana scorsa si sono svolti eventi importanti, che in un certo senso si collegano alla Pasqua. Cominciamo con la pace di corsa. Vediamo il perché. Tanti ragazzini spezzini hanno partecipato a una corsa solidale, promossa dalla Caritas. Quasi 200 alunni dell'Istituto Comprensivo ISA 4 e alunni delle Madripie franzoniane e dei Prati di Bezzano. Si sono impegnati in una corsa non competitiva, per raccogliere fondi a favore dei bambini del Mali. Don Luca Palei, direttore della Caritas di Ocesana, ha ringraziato il sindaco per aver concesso l'utilizzo di Piazza Mentana. La Polizia Municipale, la Croce Gialla, le scuole che hanno partecipato all'evento e i bambini impegnati per la pace. Quindi questa esperienza parla di pace e di solidarietà. Don Luca, allora un momento di festa con tutti i ragazzi, la Caritas in piazza con tutti i volontari, davvero un bel momento. Sicuramente perché correre per la pace è più che mai un tema attuale e questi ragazzi, devo dire, che con tanto entusiasmo sono arrivati fino a qua davanti al Teatro Civico e hanno messo veramente il cuore. Si dico proprio durante la strada che cantavano felici e penso che questa serenità, questa tenderezza, anche i bimbi ci evoca, non sia veramente un messaggio positivo che in questo tempo agitato, in questo mondo agitato, fa veramente piacere. Quindi correre per la pace, educare la pace, la legalità, tutto quello che ci permette di avere veramente speranza, anche dove le notizie di questi giorni, dei giornali, le situazioni anche complicate che riguardano i giovani, tante volte ci fanno un pochino perdere l'orizzonte. Invece questi ragazzi, il loro entusiasmo ci fanno trovare la bussola giusta per andare avanti. Ecco, un momento bello con i bambini della Spezia, parlare di pace insieme a loro, che sensazione ti dà? Mi fa piacere di parlare della pace, perché diciamo soprattutto in Africa, vado a prendere l'esempio se in Africa c'è sempre la guerra, è importante per partecipare a questa festa, la cosa per la pace, per far ricordare il mondo, è importante fare la pace, perché senza la pace non c'è la stabilità, senza la pace non c'è una vita, senza la pace non possiamo fare niente, soprattutto guarda l'Africa, ci sono i bambini che non hanno più nessuno sulla terra, per esempio, soprattutto io, non c'è più famiglia, non c'è più dove possiamo andare, sono perso il mondo, è importante fare la pace, senza la guerra non c'è un problema nel mondo. Un momento organizzativo, un po' impegnativo, ma alla fine anche la soddisfazione di vedere tanti bambini contenti. Sì, certo, è un po' di fatica, ma è una fatica che si fa con piacere, anche perché i bambini sono stati bravissimi nel percorso che abbiamo fatto a scuola con Abdu, sono stati curiosissimi di scoprire tutte le cose del paese di Abdu, di El Mali, perché è per quello che siamo andati, e oggi sono qui pronti per correre, avremo anche un momento di riscaldamento e prima di iniziare la preghiera del podista, ma la cosa importante è che loro hanno capito che grazie a questa corsa, che non è una gara, loro possono aiutare queste popolazioni più in difficoltà. I concetti sono chiari, i bambini hanno capito, sono pronti a correre e quindi possiamo dare il via e i bambini partono, con tanta allegria. Un altro evento che parla di primavera e di rinascita è stata la messa a dimora di 1500 giovani piantine, che fra qualche anno diventeranno grandi e maestosi alberi, che renderanno la spezia sempre più verde. Si tratta di piccoli lecci, querce, frassini, aceri, piccoli olmi e roverelle, che saranno sistemate in cinque zone della città. L'iniziativa è stata promossa dall'amministrazione Spezzina e da Accredito Agricole Carispezia. I nuovi arbusti sono stati presentati il 6 aprile, oggetto dell'intervento nel complesso del 2 giugno, una delle aree scelte. Poi seguiranno il Palazzetto dello Sport, la scuola elementare in via del Canaletto, in quella di via Bologna e sulle rotatorie in via degli Stagnoli. Nel 2015 il responsabile dell'area privata Accredito Agricole Carispezia l'aveva lanciato al progetto Gran Mutuo Green, con la piantumazione di un albero per ogni mutuo fatto dai loro clienti. Concludiamo il nostro Tg parlando di Pasquetta. Per festeggiarla al meglio occorrono una giornata di sole, un prato o una spiaggia, una grande tovaglia allegra da stendere per terra, una bella brigata con voglia di cantare e suonare e tanti cibi appetitosi, salumi, formaggi e fave. Non dovrebbe mancare la torta pasqualina, acqua bibite e un buon bicchiere di vino. Quindi vi auguriamo una Pasquetta divertente e piena di sole. È giunto il momento delle rubriche. Via il filmato! Rubrica dello sport. Domenica 9 aprile si è svolta la manifestazione sportiva Vivi in città. I partecipanti sono stati numerosissimi. C'erano bambini, ragazzi, giovani e non più giovani, mamme con passeggino, cani a guinzaglio. Tutti erano uniti dall'entusiasmo di correre insieme sotto un sole caldo, ma non troppo e con uno scopo solidale. Le offerte raccolte saranno date dal progetto Mortalità Zero della Fondazione Umberto Veronesi per combattere il tumore al seno. Oggi vi parlerò della primavera. Secondo voi, quali cibi si mangiano in questa stagione? Beh, mi sicuro ognuno di voi ha o non ha un'alimentazione ben precisa, ma anche per le persone a cui piace provare cose nuove abbiamo un paio di consigli, tipo tiramisole e fragole, lo sfumato di carciofi e ripieno, la gelatina di fragole, le extraverdure di primavera, panno ciolato al pecorino, pasta fra le nocciole, ciambellini d'alciai di Pasqua, crema di cavolfiore e orgio, rosti di zucchine, ombrine a forno e tanto altro. Per le ricette visitare il sito Ricette della Nonna e il portale della Buona Cucina di Una Volta. Poi ovviamente ci sono le tisane. La tisana e lo zenzero, che è anche molto semplice da preparare. Versare l'acqua in un pentolino, mentre l'acqua bolla e tagliare lo zenzero. Lasciare lo zenzero in acqua, fino a che il composto non raggiungerà un colore miele chiaro. La tisana al cacciofo, la tisana allo zenzero e cannella. Per tutte le ricette e altre informazioni visitare il sito Curenaturali.it La rubrica Conoscere la nostra città l'ho preparata io. Situato nel centro storico della città, in Piazza Mentana, il teatro civico è la struttura teatrale più importante della Spezia. Esso è per estensione il terzo teatro della Liguria. Il teatro civico è stato il primo costruito alla Spezia. In origine era situato ai margini della città. È stato inaugurato il 18 luglio 1846, circa 171 anni fa. È stato ristrutturato e, quindi, portato all'aspetto attuale nel 1932-1933 da Franco Oliva, in collaborazione con lo scultore Augusto Magli. Le cinque statue, la musica, la tragedia, l'arte plastica, il golfo e la città della Spezia, che decoravano il vecchio teatro del Cremora, furono rimosse e collocate nei giorni pubblici. Gli spettacoli che vi consigliamo sono Corpi sommersi, che si terrà il 15 maggio alle ore 10. È stato ideato dall'insegnante di danza Loredana Rovagna, che ha ideato anche Carbone in sorpresa diamante e Il re sole. Macbeth, un'opera dirica che si terrà il 22 aprile alle ore 21. Buon divertimento, il teatro è bello! Questo dolce è tipico calabrese. Tutte le famiglie a Pasqua ne fanno di vari tipi. La mia nonna l'ho imparato dalla sua mamma e ora lo fa anche la mia con me. È un dolce semplice, fatto con farina, uova, burro e zucchero, ma ha forme particolari. Nella mia famiglia si fa a forma di colomba o panierino. Un altro particolare pasquale è che all'interno del dolce viene posizionato un uovo sodo. L'uovo, infatti, è un simbolo della Pasqua e si trova in molti dolci tipici di questa ricorrenza. Alla spezia viene chiamato canestrello. La rubrica delle curiosità parla dell'uovo di cioccolato più grande del mondo prodotto nel 2016. L'azienda belga Guiljan, che produce cioccolata, ha creato nel 2016 l'uovo più grande del mondo. Per realizzarlo sono servite circa 50.000 barrette di cioccolato e sono state impiegate 525 ore di lavoro. È alto 8,32 metri e pesa 1950 chili. Questo fantastico dolce da record è stato registrato nel Guinness dei primati. Ci sono molte uova di Pasqua solidali. Sarebbe un gran aiuto per tutte le associazioni che si occupano di aiutare chi è malato, disabile o ha necessità di essere riabilitato perché è schiavo della droga, del gioco della carte, dell'otto o è schiavo delle macchinette che si possono trovare nei bar o nelle sale da gioco e anche su internet o cellulari. La rubrica delle curiosità parla dell'uovo di cioccolato più grande del mondo prodotto nel 2016. L'azienda belga Guiljan, che produce cioccolata, ha creato nel 2016 l'uovo più grande del mondo. Per realizzarlo sono servite circa 50.000 barrette di cioccolato e sono state impiegate 525 ore di lavoro. La rubrica dello sport è dedicata al tennis. Il tennis è uno sport praticato in molti paesi del mondo. È agonistico, perciò richiede una buona preparazione atletica. Si può praticare come un momento di gioco, ma soprattutto i giocatori aspirano ai tornei, alcuni dei quali sono molto importanti. Per praticare il tennis occorrono una racchetta e una pallina speciale. Si può giocare in due o quattro giocatori. I campi possono essere di terra battuta, color rosso tenente all'arancione, di erba o artificiali. Sono divisi in due parti, uguali. Da una rete posta a metà campo, a un metro e mezzo da terra. Le partite hanno una durata non precisa. Non si sa esattamente quando sia stato inventato, ma sappiamo che l'origine risale al tempo dei Romani. Nell'Ottocento si praticava un gioco molto simile, il volano, che si gioca con una racchetta e una pallina a forma di fiore. Il tennis rimane uno dei giochi più praticati in Italia. Anche io gioco a tennis e il mio allenatore mi stima. A me piace molto perché è divertente e mi permette di stare a contatto con la natura. Il nostro TG è terminato. Grazie per averci seguito e arrivederci a presto.